Ieri sera è stata ritrovata con le mani ancora che le ricoprivano il volto, in pieno centro ad Afragola nei pressi di Corso Nenni. Il corpo, privo di vita, era disteso sull'erba. Si tratta di una giovane donna, presumibilmente una 35enne dell'est europeo. Sul posto sono a corso gli uomini del commissariato di Afragola, diretti dal vicequestore Sergio Di Mauro, che insieme ai carabinieri hanno fatto i primi prelievi. Ancora in corso le indagini per stabilire le cause del decesso.